Ciao, se hai la ricerca di un divano letto, allora è l'occasione giusta per visualizzare quello che segue. RelaxStore condivide a confronto opinioni sulle tipologie dei divani letto. Sei pronto? Il divano letto come a mobile imbottito nasce dalla fusione di due articoli. Il divano è ovviamente il letto. Nella scelta c'è sempre un compromesso. Sta a te decidere se acquistare un divano letto oppure un letto divano. Solitamente un divano letto ha un meccanismo a estrazione. Dopo aver tolto i cuscini della seduta, si estrae la rete e il materasso. Solitamente non più alto di 6 cm. L'apertura a estrazione pregi estetica e comfort del divano inalterati. Meccanismo inseribile anche in divani poco profondi. Difetti, altezza massima materasso 6 cm. Lunghezza massima materasso 180, poco comfort nell'utilizzo letto e la maggior parte dei cuscini viene rimossa e richiede spazio per appoggio. Un prezzo medio per un divano a tre posti varia tra i 900 e i 1300 euro. Se invece serve un prodotto confortevole da utilizzare tutte le notti, scegli un letto divano. In questa categoria rientrano i modelli a scivolo, clic a calibro, estraibile a cassetto e a ribatta. L'apertura a scivolo, pregi, semplicità, apertura, minimo ingombro in larghezza, massima resa in larghezza del materasso, altezza materasso sufficiente, prezzo competitivo. Difetti, design banale. Il materasso fa anche la seduta e il prezzo medio di un divano letto a tre posti varia dai 400 ai 750 euro. Invece la prossima apertura, l'apertura a libro, pregi, semplicità, apertura, minimo ingombro in profondità, massima resa in larghezza del materasso, prezzo competitivo. Difetti, design essenziale, struttura leggera. Il materasso fa anche la seduta, comfort minimo nell'utilizzo del letto e solitamente non sfogherabile. Il prezzo medio varia tra i 200 e i 500 euro. L'apertura a cassetto, pregi, semplicità, apertura, praticità e comfort per due piazze separate, possibilità di inserire materassi comodi. Difetti, il materasso superiore è anche seduta del divano. Difficoltà nell'utilizzo in versione matrimoniale e il materasso inferiore prevede un massimo di altezza, solitamente 14 centimetri. Il prezzo medio per tre posti varia tra i 800 e i 1300 euro. Apertura ribalta, pregi, varietà estetica e design, possibilità di inserire piedi alti e moderni, diverse misure in larghezza, semplicità apertura, esistenza vano porta cuscini, possibilità di inserire materassi comodi dai 13 ai 20 centimetri in altezza. Difetti, l'ingombro da garantire divano aperto, solitamente 210 centimetri. Il prezzo medio per un divano a tre posti vale tra i 700 e i 1300 euro. Conclusioni Considerando la nostra plurianale esperienza nel settore, riteniamo che il divano a letto esemplare si ottenga con il meccanismo a ribalta, che abbina materassi davvero comodi a svariati modelli moderni, di design oppure classici e tradizionali. Alla prossima! Vieni a trovarci in Relax Store, Corso San Maurizio 53, Torino Vieni a trovarci in Relax Store, Corso San Maurizio 54, Torino